Buonasera, benvenuti alla ventiquattresima puntata di Varese Academy Pallacanestro che chiude il primo ciclo di trasmissioni dedicate al vivaio biancorosso, un vivaio florido presieduto da Gianfranco Ponti che abbiamo in collegamento questa sera. Buonasera Ponti. Buonasera. Ecco, faremo un po' il punto della situazione su questa annata dell'Academy che purtroppo si è interrotta a causa del coronavirus ma tutte le squadre hanno dovuto interrompere la loro attività ma l'Academy sta già guardando al futuro. Prima di indagare l'avvenire di Varese Academy Pallacanestro mi permetta di riprendere dal titolo dell'ultima puntata che era Piano C e facevamo riferimento al Piano C-Gold, un Piano C-Gold, un Piano C-Doro. Insomma, avete intenzione, allora è una vera intenzione quella di avere nella prossima stagione una squadra in serie C-Gold? Sicuramente avremo una squadra che sia in C-Gold o che sia in B per far maturare più rapidamente i nostri ragazzi perché ormai abbiamo una squadra che a settembre sarà ancora decisamente rinforzata e che può sicuramente ambire a giocare in quelle categorie. Ora, il fatto di scegliere la C-Gold piuttosto che la B non dipende solo da noi. Il progetto con la Robur, come dicevo, anticipavo già la settimana scorsa, sembra destinato ad arenarsi, fatto salvo l'eventuale accordo per la serie B. Per cui, siccome siamo consci delle nostre forze, ma anche delle nostre debolezze, qualora dovessimo andare da soli inizieremo con una C-Gold e naturalmente con l'obiettivo poi di salire in B nel giro di un paio d'anni. Se invece avremo l'opportunità con la Robur, che ad oggi è ancora tutta da vedere, naturalmente potremo partire dalla B. Parlando con lei anche la volta scorsa, avevamo capito che nella Robur ci sono due anime. La Robur è un po' spaccata da una parte, un'anima che vorrebbe la liaison con lei e con Varese Academy Pallacanestro, dall'altra parte una componente un po' restia a questa unione, è vero? La situazione della Robur sembra complessa, le mie informazioni sono in parte informazioni dirette per le discussioni avute in questi mesi e in parte quello che leggo sui giornali o sui media e pare evidente che non ci sia un'animità su come fare, soprattutto se fare con l'Academy. Ritengo che a questo punto ci sia anche una tempistica ormai impossibile da mantenere, per cui noi andiamo avanti per la nostra strada e vedremo se la Robur torna da noi per discutere eventualmente a questo punto di un piano B, in alternativa al piano C gol. Piano C, piano B e piano A? Qual è il piano A per la prossima stagione? So che vi state guardando intorno, ci sono dei giocatori che arriveranno dall'Argentina? Allora sì, abbiamo chiuso proprio in questi giorni l'accordo quadro con i consulenti dei ragazzi che abbiamo visto a Cordoba e che in realtà venivano da quasi tutta l'Argentina. Sono venuti tutti a Cordoba grazie alla famiglia Filloi, famiglia di grandi cestisti e come abbiamo già raccontato nel passato abbiamo avuto l'opportunità di vedere dei ragazzi con straordinarie capacità e soprattutto voglia di riuscire, voglia di diventare giocatori professionisti. Ne vogliamo approfittare, hanno il passaporto italiano per la maggior parte e abbiamo iniziato proprio questa settimana le discussioni per convincere le famiglie che vanno a essere il posto giusto, perché si tratta di ragazzi che per la maggior parte hanno già proposto e offerto da altre squadre europee di grande rilevo. Bene, avete il progetto di una squadra o in Cigolda o in Serie B, quindi per dare spazio ai giovani, dare uno sbocco ai giovani in una prima squadra o in Serie C-Golda o in Serie B, ma volete anche diventare un network nazionale come ci ha più volte ribadito qui a Varese Academy Pallacanestro? Questo sia per poter estendere lo scouting su tutto il territorio nazionale, ma anche per poter poi offrire ai ragazzi una serie di possibilità all'uscita, perché uno dei temi importanti che abbiamo dovuto affrontare analizzando la storia, le statistiche della Pallacanestro Varese, che credo peraltro siano simili a quelle di tante altre squadre di Serie A1 e A2, è che i ragazzi sono seguiti, hanno l'opportunità di arrivare fino all'Under 18, eventualmente fino all'Under 20 e poi se non sono diventati veramente papabili per la massima divisione, si perdono un po', hanno altre opportunità, l'università, il lavoro, la fidanzata eccetera. Il nostro sforzo è anche di assicurare a tutti i ragazzi che fanno il percorso giovanile con noi di uscire ed avere la possibilità di fare ancora basket ad alto livello. Bene, facciamo qualche passo indietro, insomma questo è il terzo anno con la sua Academy, insomma un bilancio di questi anni, questa è un'annata molto difficile, un po' sfortunata, perché ad esempio squadre come l'Under 15 stavano dando gonfie vele in Europa, però il coronavirus ha sospeso tutte le manifestazioni sportive, quindi non siete neanche riusciti a svolgere le fasi finali di Coppa, l'European Youth Basketball League. Sì, proprio su questo punto abbiamo avuto una notizia, diciamo piuttosto un pettegolezzo proprio nei giorni scorsi, l'IBL sta cercando di organizzare comunque le finali in cui avremo il diritto di partecipare durante l'estate. La cosa mi sembra altamente improbabile, però ci faremo trovare pronti se ci invitassero. Per il resto in realtà abbiamo passato quasi tre anni a lavorare con l'Academy, ma solo un anno completo, perché il primo anno siamo arrivati durante l'estate e le squadre roste degli allenatori erano già praticamente fatti. L'anno scorso abbiamo potuto lavorare bene e come ricordate abbiamo potuto portare tutte le squadre alle finali, diciamo che fossero elite eccellenza e quest'anno volevamo fare anche meglio, ma evidentemente l'anno è finito presto. Per l'anno prossimo stiamo cercando di costruire dei gruppi molto completi, troveremo anche i due ragazzi del Camerun che sono arrivati e poverini hanno fatto essenzialmente la quarantena per il virus e incominciano solo ora ad allenarsi. Le ambizioni sono tante, però prima mi chiedevi giustamente qual è il piano A. Il piano A per definizione il più importante è quello che i nostri ragazzi arrivino non a giocare in C, non a giocare in B, ma arrivino a giocare nella pallacanestro Varese. Se no saremo qui per nulla. Ponti, il suo sogno, le chiedo, qual è il suo sogno? Chiuda gli occhi, condivida con noi un sogno, è l'ultima puntata di questo primo ciclo di trasmissioni sull'Academy, riprenderemo sicuramente, ma vorrei che condividesse con noi qualche sogno che non ha mai confessato a nessuno, lo confessi a noi. In realtà non sono abituato ad affidarmi ai sogni, abbiamo delle ambizioni, abbiamo un programma molto chiaro e ci siamo detti che avremmo impiegato 4 anni e ne abbiamo passati 2, il terzo è un anno zopo, per cui ripartiamo ancora con l'obiettivo di fare un prossimo bienio di alto livello e finalmente ritrovarci riconosciuti come un'accademia del basket in Italia e all'estero. Peraltro colgo l'occasione, se mi permetti, tramite te per ringraziare tutti gli spettatori che ci sono stati vicini e tutto il vostro team di Rete55, perché questa trasmissione è iniziata con qualche dubbio di tutti e i risultati sono, da quel che mi viene detto, ottimi, per cui spero che ci rivedremo presto e in ogni caso con la prossima stagione. Bene, io la ringrazio, le do l'appuntamento alla prossima stagione, naturalmente se ci saranno queste finali di European Youth Basketball League le seguiremo, saremo in prima fila a seguire e a tifare l'Academy. Grazie Gianfranco Ponti. Grazie a voi, un saluto a tutti e ci rivediamo dopo l'estate. Bene, grazie a Gianfranco Ponti, grazie a tutti voi e come ha detto Gianfranco Ponti, ci rivedremo dopo l'estate con Varese Academy Pallacanestro. Grazie, arrivederci.